L'inflazione nell'area euro si attesta a settembre allo 0,4% in aumento rispetto allo 0,2% di agosto. Lo rivela l'Eurostat che conferma i dati pubblicati in via preliminare il 30 settembre scorso. In particolare sono saliti i prezzi dei servizi, quelli di alimentazione, bevande e tabacchi e beni industriali. Riduzione più contenuta per i prezzi dell'energia in calo del 3% contro il 5,6% di agosto. Date in linea con le previsioni ma lontani dall'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea.